Ciao ragazzi, ciao cuccioli, ciao cucciole, qua Jack Out e questi sono i miei 5 oggetti essenziali per la sopravvivenza. Partendo dal primo che è il più essenziale e a molti può sembrare un semplice blocnotes, così è, ma senza questo oggetto non avrei la mia sanità mentale perché credetemi le canne non sono una droga ma allo stesso tempo certe cose, certe dimenticanze te le creano, quindi senza questo semplice taccuino da 90 centesimi non riuscirei a gestire tutte le cose nella maniera giusta. Il secondo oggetto per me essenziale, o meglio i due oggetti, sono i miei due telefoni, uno per le attività lavorative e uno per le attività un po' più empatiche, diciamo. Sembra una stronzata ma mi dà dei respiri da certe cose non indifferenti. Per terza abbiamo questa super collana, home made ovviamente, lucchietti dei cinesi, catenina da qualsiasi ferramenta, però ragazzi non ho 8K al collo ma guardate qua. Bellissimo eh, poi il double color c'è, non so io. Come quarto, un oggetto immancabile del mio outfit è la maglia e maniche lunghe, questa in particolare di mano occulta, super soft porno e diciamo che ovunque vado me ne devo portare una. E come quinto oggetto ma non per importanza, le fottute Air Force ragazzi, perché in ogni situazione, dal gala alla street, sono la scarpa perfetta per ogni allenienza. Bella ragazzi, un bacio enorme ai ragazzi di Shopping With, di Quai Jack Out, questi erano i miei 5 oggetti essenziali, mi raccomando, fate i buoni.